Domani parleremo della proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale dell'Unione Europea, il grande scontro con YouTube, l'articolo 13 e tutti gli altri articoli che ci sono in giro, lo scontro che hanno avuto con Wikipedia, la link tax e tutti questi argomenti qua. Questo weekend l'ho passato a studiarmi che cosa stanno combinando nel dettaglio, l'avevo vista qualche tempo fa, però poi nell'ultimo video che ho pubblicato qualcuno me l'ho chiesto, qualcuno mi ha scritto un'email e allora ho deciso che forse era il caso di fare un video per chiarire alcune cose che reputo secondo me molto interessanti e utili da chiarire. Però oggi su Fast Forward per un internet migliore trattiamo il caso di Dolce & Gabbana. Ho preso degli appunti come è mio solito fare, giusto per avere i dati corretti. Dolce & Gabbana in Cina è veramente un epic fail, è una delle domande che mi sono fatto prima di partire con tutto quello che ho visto, perché bisogna chiederselo. La risposta breve non c'è, non c'è per due motivi in particolare. Il primo innanzitutto che è un epic fail non lo decide un social media cacciatore di fail in giro, lo decide il mercato, lo decidono le persone, quindi bisogna analizzare tante cose che andremo a fare. Il secondo motivo del perché non c'è un epic fail è importante capire che ogni brand ha un suo posizionamento, ha dei valori da comunicare. E allora quando si parte a fare queste analisi la domanda che io faccio è ma quali sono i valori del brand Dolce & Gabbana? Li hanno comunicati, non li hanno comunicati? Voi lo sapete quali sono? Perché la comunicazione è una cosa molto complessa, non è così facile trattare di comunicazione. Tutti pensano che insomma se ne sanno occupare, no? In realtà nessuno se ne sa occupare di quelli che fanno social media, nel senso non nessuno ma la stragrande maggioranza di quelli che partecipano ai vari gruppi, segnalano eccetera eccetera di comunicazione pura ne capiscono poco, almeno da quello che scrivono. Perché è molto importante questo aspetto? Un po' sono come quelli che guardano le partite di calcio, no? Andando a commentare pensano di essere migliori dell'allenatore. È un errore ovviamente, un errore cognitivo frequente. Parlare dei valori di Dolce & Gabbana, dei valori di un brand è importante e ci insegna tante cose. Soprattutto in questo caso è utile andare a fare un'analisi per cercare di capire che cos'è che possiamo imparare, che cos'è che non è andato, non per criticare, non per dire eh ho fatto un epic fail, ma cercare di capire cosa è successo davvero. Facciamo un ricapitolo veloce. Dolce & Gabbana lanciano alcuni video sui social network per la sfilata che doveva farsi a Shanghai il 21 di novembre. Che cosa accade? In questi video si vede questa modella che mangia del cibo italiano con delle bacchette. Al di là del pessimo gusto, insomma di tutto il video in genere, ci sono anche delle battute molto fuori dagli schemi per quanto riguarda quel tipo di comunicazione. Una battuta bruttissima sul cannolo siciliano e sul fatto che, diciamo, sulla grandezza del cannolo siciliano che la modella sta mangiando. Che magari la grandezza non è proprio per i suoi gusti, no? Che fosse troppo grande per i suoi gusti. Queste allusioni da quattro soldi per un brand come Dolce & Gabbana veramente assurdo. Iniziano le proteste. Qualche modella si lamenta, qualcuna incomincia a parlare del fatto che non andrà alla sfilata. Il social network cinese Weibo cancella i video. A questo punto c'è un account che si chiama Diet Prada che ripubblica uno di questi video andando a dire che fa un commento molto negativo. Che cosa accade? Pare che Stefano Gabbana abbia commentato in privato a questo account insultando il popolo cinese. Dicendo che è un popolo di merda, che è un popolo che c'è la mafia, eccetera, eccetera. Dopodiché lo stesso account ufficiale di Stefano Gabbana è andato a scrivere che quello invece era stato hackerato, no? E' stato hackerato il profilo. Al di là se è stato hackerato o no, quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già il video di per sé lo aveva fatto dei casini. Molte persone cinesi avevano disapprovato. Ma questa cosa ha lanciato veramente in là. A quello che poi è successo dopo. Che cosa sia successo di grosso. Sono successe due cose che ci fanno capire che sì, è probabilmente un grandissimo fail. La sfilata viene cancellata, ma questo ce ne frega relativamente. I prodotti, ed è qui il grosso, i prodotti Dolce e Gabbana vengono ritirati da tantissimi e-commerce cinesi per il mercato cinese. E questo è una cosa molto importante. Alla fine di tutto Dolce e Gabbana fa il video, fanno il video per scusarsi. Allora, appena finisce questo video, incominciano tutta una serie di parodie. Crozza ne è dedicata una, ce ne sono altre in Cina, ci sono persone cinesi che commentano questa faccenda. Ne dicono ovviamente di tutti i colori, con la tranquillità che contraddistingue secondo me quella tipologia di popolazione. C'è un video cinese dove viene intervistato in tempo reale, vengono mostrati i video, vengono intervistate le persone in tempo reale. Dicono che non compreranno mai Dolce e Gabbana, ma con molta tranquillità, senza nessuna aggressività, addirittura una ragazza dice dobbiamo vedere come rispondono, perché un errore può capitare a tutti. È una cosa abbastanza bella. Quali sono i due errori che ci sono stati dal mio punto di vista? Cerchiamo di capire perché c'è stato un errore in particolare. E soprattutto, che cos'è che porta Dolce e Gabbana o un brand come Dolce e Gabbana a fare questo errore? Perché questo è l'aspetto interessante di quello che stiamo andando a trattare. Il primo errore in assoluto, quello più evidente, è il video di scuse. Il video di scuse, guardandolo, mi dà la sensazione di un video molto amatoriale. È assurdo quasi, è surreale la faccenda. Anche il tono che usano è veramente fatto male, diciamo così. Non è in linea con il loro brand, almeno con i valori che cercano di andare a trasmettere. Ci sono degli insulti pazzeschi sotto il loro video, che fanno capire a che livello siamo. Ed è un livello preoccupante dal mio punto di vista. Italiani che insultano Dolce e Gabbana per essersi scusati. Un molletto delle robe assurde. Italiani che li insultano per gli errori fatti, è veramente assurdo. Però i fondatori, secondo me, hanno deciso di prendersi tutta la responsabilità scavalcando qualsiasi reparto di comunicazione. Secondo me questo è un errore abbastanza grave. Però il secondo errore, che è quello dedicato al video che hanno fatto per promuoversi con la modella, è fatto malissimo. E perché è fatto malissimo? Perché in realtà non parla di stereotipi cinesi. Questo è un grandissimo errore. A parte che se guardate i video cinesi dicono che la modella non sa tenere neanche le bacchette in mano. Se la sono presi proprio anche da un punto di vista visivo. Non tratta uno stereotipo. Non lo tratta per niente. I cinesi, i popoli orientali, non mangiano il cannolo siciliano con la bacchetta. Neanche la pizza la mangiano con la bacchetta. Non è uno stereotipo per prenderli in giro. Assolutamente. È proprio ignoranza questa. Chi ha vissuto in oriente, non ho chi è andato in vacanze, chi ci ha vissuto, io sono stato in Thailandia tanto tanto tempo, lo sa che le bacchette oltre al mangiare servono anche per altre cose con il cibo, quando lo si cucina eccetera eccetera. E per alcune cose sono meglio delle forchette per mangiare, anche per cucinare. Per alcune cose sono meglio. Questa cosa è veramente assurda, è una nostra idea, una chiusura mentale, pensare di essere sempre i migliori e che quello che facciamo noi è sempre meglio di qualsiasi altra cosa. Il video non tratta gli stereotipi. Questo è un grandissimo errore. Tratta una cosa falsa. Non è di poco conto. Attenzione che non è di poco conto perché Dolce Gabbana comunica in quel modo. E ora vi spiego perché. Se un'azienda cinese per esempio fa un video e dice gli italiani mangiano, bevono il latte con la forchetta, per prendere lo stereotipo che mangiamo gli spaghetti con la forchetta o facciamo tutto con la forchetta, non è uno stereotipo, è un errore. E' una chiusura mentale nell'ignoranza, dell'ignoranza, dell'ignorare proprio un tipo di cultura. E quindi secondo me è importante capire questa cosa prima di tutto. Tralasciando le battute stupide che fanno nel video, perché Dolce Gabbana fa quella tipologia di video? Perché Dolce Gabbana fa quel tipo di comunicazione? E' questa la cosa da comprendere per chi si occupa di social media, per chi cerca di fare comunicazione all'interno dei social media. Perché parte tutto da lì. Non è che Dolce Gabbana si alzano la mattina e fanno dei video in quel modo. Allora, Dolce Gabbana da sempre, quando fanno questi spot, tentano di portare all'interno dei loro spot, all'interno delle loro pubblicità, i loro valori. Non è la prima volta che fanno comunicazione di questo tipo. In Spagna gli hanno volcato un manifesto perché sembrava, poteva sembrare uno stupro, per esempio. Hanno tutta questa comunicazione. Se andate nel profilo di Stefano Gabbana trovate, non lo so, Sicily My Love, Orgoglio Italiano, Orgoglio di essere Italiano. Loro che fanno e saltano alcuni concetti. E soprattutto quelli legati allo stereotipo e alla meridionalità. Perché lo fanno? Andiamo a preso precisamente le pagine. Se andate nella pagina del gruppo è spiegato. Controllano tutto loro e dicono che questo modo di controllare l'azienda, eccetera, eccetera, in tutta la varia filiera, è interessante perché riportano il loro DNA. Qual è il loro DNA? È un DNA che si basa, lo leggo, sulla tradizione sartoriale e artigianale e sulla cultura mediterranea dell'Italia. Nella pagina del marchio accentuano questa cosa dicendo che hanno questa spiccata tendenza all'innovazione con l'impronta mediterranea delle origini. Caratteristiche opposte che ne costituiscono l'essenza più profonda. Queste sono due pagine principali. Poi c'è un'altra pagina. Non è propriamente dedicata ai valori in genere, ma tratta il codice etico. Nel codice etico ci sono sei valori, ne approfondiamo uno, vi cito gli altri cinque che sono il rispetto delle persone, e lo hanno ovviamente, si intende di quelli che lavorano con loro, creatività e imprenditorialità, integrità ed etica degli affari, responsabilità e onestà rispetto dell'ambiente. Il primo valore del codice etico che va in linea con tutto quello che ci siamo detti sulla pagina del marchio, sulla pagina del gruppo, è contrasto e armonia. Ve lo leggo perché è interessante. Per Dolce e Gabbana il contrasto è fonte inesoribile di stimolo e di ispirazione. Il valore contrasto genera il valore armonia, che si manifesta in uno stile che concilia. Lusso e strada, quindi opposti secondo contrasto e di questo tipo di visione. Tradizione e ricerca, creatività e sartorialità, eccesso in rigore e sogno in realtà. Ecco, allora, ci sono determinate cose che è importante andare a trattare. È davvero un epic fail? Sì, è davvero un epic fail perché l'ho deciso il mercato, non perché l'ho deciso qualcun altro. È un popolo che si sta indignando totalmente, sta mostrando la propria indignazione. Potrebbero addirittura chiudere nel mercato cinese. Quindi è il mercato e le persone che determinano se è un epic fail. Questa cosa, su queste cose qui si basa. Che cos'è un fail? Si basa sulla comunicazione, sui valori, su quello che fa il mercato e le persone e sulla ripercussione che può avere qualcosa. Non perché qualcuno si alza e dice questo qua è un epic fail, non sul giudizio di chi è sui social network. Quando si va a trattare questa tematica, se neanche ci chiediamo quali sono i valori del brand, allora possiamo cambiare lavoro. Ci sono tante persone che non vedono l'ora che qualcun altro sbagli. Probabilmente funzioniamo sempre così, è una cosa veramente che non mi piace. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dirci quali sono i valori del brand, come hanno comunicato. Gli hanno comunicati questi valori, in questo caso hanno sbagliato perché volevano usare uno stereotipo. Però dire Dolce & Gabbana sbaglia totalmente, hanno fatto un mega big fail solo ed esclusivamente per il video, è un grande errore. Perché di solito non è proprio sui social che si fa il fail. Il fail si fa in tutto quello che resta nella comunicazione e in quello che resta nel mercato e in quello che è poi la ripercussione sull'azienda. Quindi, andare a verificare quali sono i valori è troppo importante, prima di dare qualsiasi tipo di giudizio. Poi, appena qualcuno sbaglia, noi subito andiamo ad esternare la nostra felicità. Non facciamolo perché è veramente brutto, è veramente un comportamento brutto esprimere dei sentimenti di questo tipo a fare i giudici di qualsiasi altra cosa. Se noi vogliamo crescere, se vogliamo crescere e aumentare la professionalità, se vogliamo fare di questo settore un settore migliore, se vogliamo fare di internet un posto migliore, bisogna sicuramente fare delle analisi serie, non lasciarci alla prima cosa che ci passa per la testa. Questo è un errore gravissimo, soprattutto chi fa social, soprattutto chi si occupa di social in modo professionale. Ha bisogno di tranquillità, ha bisogno di tempo, non di velocità, perché la velocità in questo caso non porta alla riflessione. Ci toglie tante cose la velocità, quindi bisogna calmarsi un attimo e cercare di ritornare alle basi, alla BC, che secondo me è molto più interessante.